Pannelli fotovoltaici che producono energia pulita anche sui tetti dell'istituto scolastico Jean Piaget. Salgono così a 129 le scuole romane che producono energia pulita rispettando l'ambiente e l'impegno prosegue. Nei prossimi mesi infatti verranno realizzati molti altri impianti, alcuni di quali già allacciati alla rete elettrica Enel e Acea. Un'operazione che consentirà di ottenere circa 103 milioni di kilowatt di energia per un risparmio equivalente a 22.700 tonnellate di petrolio, che tradotto significa non immettere nell'atmosfera 54 tonnellate di CO2. Circa il 40% dell'energia prodotta verrà poi restituita all'amministrazione provinciale per un importo stimato in 60.000 euro l'anno. Insomma, un bel risparmio sulla bolletta pubblica.